Buonasera, ben trovati alle TG Med Sport, notizie confortanti per Giuseppe Iachini ma in generale per tutto il Palermo perché come vedete dalle immagini da palermocalcio.it Andrea Belotti ha svolto il secondo tempo della partita amichevole del pomeriggio ha giocato regolarmente insieme ai compagni 50 giorni dopo l'infortunio alle tendine di una gamba l'infortunio è fastidioso, una diagnosi sbagliata almeno in partenza, il lungo recupero è chiaro che bisognerà ritrovare anche la condizione migliore potrebbe già essere disponibile per la sfida contro il Bari di sabato pomeriggio al Barbera si gioca alle 15, è chiaro dunque che per Belotti inizia finalmente la seconda parte di stagione e il girone di ritorno intanto ha parlato uno dei protagonisti di questi ultimi 40 giorni ma soprattutto del mercato di gennaio delle Palermo è arrivato per dare personalità al centrocampo il bilancio assolutamente positivo di Enzo Maresca Diciamo che dopo più o meno un mese, 40 giorni che sono qua la cosa più importante è che ho delle sensazioni positive a livello generale di squadra innanzitutto e anche a livello personale per quanto riguarda il campionato come ha appena detto lei poi se non è un problema per voi ci diamo del tutto tutti così facciamo le cose più facili da un punto di vista del campionato sicuramente un campionato che non pensavo sinceramente fosse così difficile ma non tanto da un punto di vista tecnico ma da un punto di vista comunque tattico e comunque il Palermo è una squadra che vuoi o non vuoi in Serie B è una squadra che qualsiasi avversario gioca la partita della vita e quindi Sì diciamo che da un punto di vista della tattica, dei ritmi è un campionato comunque difficile poi ripeto il Palermo è una squadra che prima e in Serie B credo che qualsiasi squadra giochi contro il Palermo vuole fare la partita della vita Compe, nel quale sei trovato il suo agio? Sì sì sì, no io personalmente mi sto trovando bene devo dire grazie, non è retorica e non è un modo di dire devo dire grazie ai compagni, allo staff tecnico perché comunque mi stanno mettendo nelle condizioni di sentirmi bene a mio agio e quello credo che sia importante per un nuovo acquisto La situazione del Bari continua a essere ovviamente deficitaria allora andiamo su trmweb.it nella sezione sport perché andiamo a leggere le parole del centrocampista delle Bari Defendi che analizza proprio il momento di difficoltà della società che la settimana prossima porterà in tribunale i libri contabili questo il pensiero di Defendi che dice raddoppieremo ovviamente le forze il Bari non si tira indietro non sono sicuramente giorni felici per la società ecco perché dobbiamo cercare di aumentare gli sforzi per raggiungere la salvezza prima possibile il capitano, Marino Defendi dunque che si prende la responsabilità la classifica parla chiaro il Palermo è la squadra da battere anche se a volte le partite più insidiose sono quelle giudicate più semplici e poi tornando alla crisi societaria spiega Defendi queste faccende non devono riguardarci perché noi calciatori siamo forse la categoria più tutelata piuttosto il nostro pensiero va alla città a quanti vogliono bene, a questa maia soprattutto a coloro che lavorano dietro le quinte per le vicende delle Bari dunque questa è la situazione delle Bari che arriverà alle Barbera abbiamo parlato proprio di questo momento del Palermo e del Bari con l'opinionista del Corriere dello Sport Salvatore Geraci io dico che se lui fa un riferimento antico il calcio è completamente cambiato se dobbiamo pensare a quello che è il Bari adesso sì, può essere una mina vagante come lo è il Trapani per altri opposti motivi nettamente migliori e superiori però non c'è dubbio che lo stato di crisi il fatto che non ci siano soldi non è che metta i giocatori nelle migliori condizioni tutt'altro il Bari potrà anche fare la partita del secolo la partita della vita ma l'esperienza per esempio del Siena ci impone di andare piano con certe situazioni la verità è che c'è una squadra sull'orlo del fallimento e non mi pare gratificante per nessuno né per il Bari né per il calcio in generale e che il Bari abbia problemi altrettanto non ci sono dubbi ma poi la logica qual è? la logica secondo me è più stringente è il Palermo che è artefice dei suoi successi o dei suoi insuccessi mi pare che sia la squadra senza essere la corazzata mi pare che sia la squadra più attrezzata per poter decidere di suo il suo campionato per quanto riguarda il Catania invece la notizia positiva nella negatività è l'intervento perfettamente riuscito per Lucas Castro operato al ginocchio un problema in più comunque per Maran in vista della trasferta di Marassi contro il Genoa con già le defezioni di Bergessio squalificato dal giudice sportivo e soprattutto di Barrientos che non è in grande condizione Isco però avverte il Genoa abbiamo fame di punti sì al di là del gioco che abbiamo dimostrato in le ultime partite che abbiamo fatto secondo me il Chievo è una squadra ostica una squadra che non ti fa giocare ma secondo me al di là che non abbiamo trovato il gioco penso che soprattutto il primo tempo abbiamo avuto qualche occasione e al di là che non abbiamo giocato bene ma poi loro hanno trovato il rigore e poi è difficile giocare contro una squadra dove sono tutti dietro sì era fondamentale perché potevamo uscire da questa situazione ma io penso che abbiamo perso un'opportunità ma non abbiamo perso la salvezza perché ancora siamo tutti là penso che un po' sì perché noi quando giochiamo al Massimino io sempre dico che sono la spinta in più ma è vero che abbiamo giocato tante volte contro loro e non abbiamo trovato difficoltà in questo senso ma sicuramente sarà una forza in più per loro ma noi penso che non ci farà condizionare un Trapani che non vuole fermarsi diventano adesso importanti le prossime sfide a partire da quella di sabato si va al Manuzzi contro il Cesena di Bisoli terzo in classifica ha parlato il portiere Emanuele Nordi che ha voluto anche spiegare il perché di quell'errore che è costato a Bari il pareggio contro la squadra puiese con forse il primo errore grave della stagione di Nordi ascoltiamo approfitto questa domanda per ringraziare tutti i tifosi che prima erano a Reggio già allo stadio finita la partita i mille tifosi che c'erano mi hanno fatto cori applausi sinceramente mi sono emozionato poi è vero anche sul traghetto un gruppo di tifosi mi ha fatto sentire il sostegno che insomma mi ha sempre fatto sentire e poi sabato c'è stato il top che mi ha chiamato sotto la curva e sentire il mio nome gli applausi di questa gente sicuramente mi ha reso orgoglioso felice e spero di ricambiare ogni sabato l'affetto che questa città questo pubblico mi sta dando e le voglio ringraziare pubblicamente torniamo al gol di Reggio Calabria che facciamo prima no per dirvi io ho sempre detto che le parate sono tutte difficili parate facili non ce ne sono la dimostrazione è stata proprio a Reggio che magari un tiro che potrebbe sembrare facile ho preso il gol per farvi capire che quello che dico è vero quando voi mi fate queste domande io rispondo sempre allo stesso modo ma è la verità le parate difficili o più difficili non ci sono sono tutte difficili parate facili non esistono quindi fare una classifica non ce la faccio un intervento che sembra facile e a volte più difficile se intanto non mi prendo la responsabilità non ho detto questo non ammetto non sto dicendo che è colpa mia il gol non ho detto questo ho semplicemente detto che magari può sembrare un tiro facile e non lo è quindi non mi prendo la responsabilità del gol o dico che è colpa mia questo non l'ho mai detto e non l'ho detto neanche questa mattina dico solo appunto che magari dalla tribuna dalla telecamera può sembrare un tiro facile e invece non lo è quindi ti sto dicendo il contrario ti sto dicendo che non è così semplice magari è giusto che un tiro può sembrare semplice magari Nord è abituato la gente a fare certe palate e quello potrebbe sembrare semplice ma per me posso garantire che non era semplice quel tiro perché la palla si è spostata vi ricordo che tutte le edizioni delle TG Med Sport le potrete rivedere sul sito trmweb.it non ci sono altre notizie grazie per essere stati con noi e arrivederci panificio Badalamenti infinite specialità da gustare arancine un euro pizze familiari a soli 5 euro panificio Badalamenti panificio rosticceria pizzeria dolci classici e moderni panificio Badalamenti sacca tubale un temi pente via Francesco Crispi numero 290 a Palermo infoline 388 90 88 192 grazie